Ad Alzate Brianza torna l'appuntamento con la rassegna Musica in Villa, giunta alla tredicesima edizione. Anche quest'anno la sua organizzazione è stata sostenuta e condivisa dalla BCC Brianza e Laghi di Alzate Brianza, che quest'anno celebra il settantesimo anno di fondazione e rientra nell'ambito della festa della Madonna di Rogoredo. Il concerto di apertura dal titolo Cinema Italiano si terra domenica 3 settembre alle ore 17 nella splendida cornice di Villa Giovio, in località Versago. Gli altri appuntamenti sono previsti per tutte le domeniche di settembre alle ore 17 in diverse dimore storiche del territorio. L'ingresso agli eventi in calendario è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.